Ciao ragazzi, grazie di esservi con me oggi oggi volevo fare un miaschino get ready with me provando i nuovi microfoni, quindi provando quanto effettivamente potessero sentirsi sono della pelle del trucco perdonate l'aspetto, sono anche un po' stanca e mattina e tutto ok, allora togliamo il giuppetto e mettiamo questa bellissima pace per capelli ok ok allora perdonate se guarderò un po' più del solito nello schermino lì ma è per ora il mio specchio soprattutto per la skin care quindi spero non vi dia eccessivamente lo stedio allora oggi vi mostrerò un po' i prodotti che uso qui c'è la mia crema il prodotto che uso sia per la skin care tutti i giorni sia per poi truccarmi se non trucco leggermente perché l'ho parato adesso al tuo mano tanto è allora comincio sempre dalle parti che mi tirano un po' di più sul viso quindi occhi e labbra e per le labbra ho finito praticamente questo burro cacao, non ce n'è più vedete della copp della vivi verde sono trovata veramente bene, lo voglio ricomprare ok però io ho tantissimi burro che avevo a casa quindi devo un attimo finire al resto secondo me è molto tanto per il giorno perché non è fastidioso invece alla sera mi metto uno molto più pastoso per fare anche le unghie insomma di quanto devo ristrutturare ok quindi questo penso lo compriamo prima o poi la seconda cosa che uso appunto è in quanto all'occhio anche questo finendo più o meno manca questo occhio e questa è la parte in cui c'è io uso l'Hydra Vegetal dell'Hives Rocher e il 2020 si trovano molto bene appunto con questa linea di skin care dell'Hives Rocher e non mi hanno mandato e tutto ce l'ho comprato io nei negozi e se lo volevo provare mi ci trovo bene in realtà non fa granché però a me serve più che altre idratazioni in questo periodo non non ho neanche le chiave così scure ovviamente per i miei standard e il problema è che realmente io ne uso troppo non lo so ce l'ho comprato a due mesi e ho finito e se tu mi durava molto il giorno comunque qui non c'è da niente c'è c'è veramente poi è finito e metto una cucina saprei come descriverla ho messo poco perchè io metto lungo tutto l'occhio qui ho messo abbastanza ok e oggi volevo anche approfittare perchè tirare un pochino non è più da nero e sentire anche un po' i vostri parieri in certe cose ieri sera mi sono imbattuta in un video di Chiara Facchetti io non la seguo personalmente non fa una tipologia di video che mi attrae mettiamola così perciò non la conosco neanche però appunto anche lei ha provato a fare un video smr diciamo che adesso è molto una moda e ho trovato un po' di commenti negativi sotto il suo video in realtà me non è dispiaciuto anche non tanto per portata o non portata insomma io mi sto scorrendo siero questa qua anche perchè è un po' secco e più che altro perchè mi è sembrata una delle poche rispettuose anche se palesemente non sapeva cos'era perchè il nome a dire asm quando non lo so perchè la gente non capisco che dice asmr non bisogna asmr che cos'è sta cosa comunque questo è il siero sempre della linea idra vegetale io vorrei provare troppo anche la crema idratante solo che ho troppe creme in questo momento non ha senso comprare un'altra però questo lo sto trovando abbastanza bene piace molto anche la confezione e si però è sbloccato l'unica cosa di questo è che io la metto direttamente sul viso e se lo avvicino troppo e lo chiudo sul viso risucchia risucchia tipo la pelle è veramente bello il tappico su questo questo vetro non sia vetro e si questo un po' lo tampono barra spalma vorrei provare anche la loro linea tipo di inquinamento vedremo intanto devo smaltire un po' di cose che ho comunque allora e stavo dicendo a parte quello che non si va presa niente neanche come si chiamassero però insomma va ben iniziato magari a darci un'occhiata rispetto a molti altri non mi è sembrato cioè mi è sembrato la prendesse bastante seriamente e ci sono un po' di critiche io poi curioso nei commenti vado a scorsere nei commenti e molte persone dicevano se vuoi iniziare a guardarle seriamente guarda che ASMR mi piaceva un sacco piacere come crema viso uso questa che mi aveva rimpiato un sacco di tempo fa la stessa marca del siro dell'altro dell'altro giorno e è una crema viso alla pava di romacchie latte d'asina non lo savo da tantissimo perché l'ho ritrovata proprio stamattina perché era a casa il mio moroso è quasi finito però perché era un cappuccino c'erano 15 ml e con questo però mi trovo abbastanza bene e invece adesso sto usando non è più niente dunque si è proprio così finita non è più niente non è più niente adesso vediamo e sta usando adesso la faccio vedere quella che sto usando ora è questa qui della biofilosofi alla per i normali misti perché altra non è più niente normale parla secca quindi non è proprio tanto è comunque troppo pastosa non mi piace l'ho comprata perché dovevo fare una tesina per cosmeti su una crema naturale io però non me li sto trovando bene sinceramente forse non è neanche adatta a mio tipo di pelle ma non avevano per pelli normali o per pelli super secche o per pelli misti praticamente in realtà anche questo è un po' densa quella che sto usando ora e perché avevo preso il campioncino di quello che avevo uscito lì tra vegetale invece era una consistenza perfetta mi hai trovato benissimo mi sta venendo voglio andare a comprare lo stesso anche se devo finire un botto di crema questo potrei che cominciare a usare per le mani anche se un po' di nasa faccio un po' di nasa e vabbè e vabbè quindi skin care conclusa io non faccio tanti passaggi e non so se devo un po' asciugare perché non so perché mi si parla sotto il naso lascia perdere comunque vi stavo dicendo che appunto lei mi è sembrata una di quelle più rispettose nel provare a fare un video del genere togliendo una moto o meno quello lo so ma di moda quindi però molti altri proprio tendono a prenderlo in cirepasta quindi almeno l'ho apprezzato sinceramente lei è un esempio che mi viene poi ci sono altri esempio erichiova che lei lo faccio da molto prima lei è bravissima però lei è proprio cioè quasi una serie sul canale nel senso che lo fa non dico regolarmente ma li fa ogni tanto non è tipo un videoprova così mi piace tantissimo però ecco in generale molti adesso è facile apprendere in giro ciò che non capisci però vabbè io cerco sempre un po' di passarci sopra perché ogni volta che tendo di difendere tendo di difendere poi ciò che è un po' il mio lavoro ciò che faccio su youtube cioè ciò che io amo tanto per cui ci spendo tanto tempo mi trovo sotto l'orda dei ragazzini che mi dice ma chi è c'è l'irenia non sai che sei se uno va ad arti del deficiente cioè ironico non ironico cioè non fa piacere quindi le mie non li sopporto veramente e bisogna distinguere l'ironia da maleducazione secondo me molte volte e l'ironia da non aver rispetto per il lavoro degli altri e non c'è molto questa distinzione personalmente io sono una persona molto auto ironica voi non potete saperlo perchè non mi conoscete così bene però cioè se chi testa è una persona che mi conosce io sono una persona molto 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 auto ironica e ad esempio è uscito anche un video parodia su instagram che è un po' girato Italia instagram è diventato è diventato mezzo virale e quello sinceramente mi faceva ridere però una sovrapposizione di ciò che dicevo in realtà però quello mi fa ridere cioè non ci trovo nulla di male ci sta ragazzi è una cosa anche strana ci sta che possa essere presa in giro in qualche modo però sempre in modo rispettoso e non volgare o sempre per denigrare le persone e non so ci trovo molta differenza per me nei parodi ci stanno ci stanno tantissimo ma fatte in modo rispettoso magari spiegando veramente cosa è l'smr quando quando si buca è la prima volta che uso la bb cream in cinque mesi sei mesi forse però penso di essere ritornato al colore di pelle normale penso che oggi ne avrò bisogno ultimamente un po' di discromia quindi la voglio usare perchè oggi voglio girare più video e uso questa della Carnier però vorrei provare tantissimo è un fondotinta della Bonjour non mi ricordo se si chiami così perchè è il preferito di Giulia Bencic che io ho amici tantissimo a lei quella ragazza e infatti è poco seguito non capisco perchè lei è tanto carina veramente e fa vedere che ha veramente un effetto naturalissimo e a me non piacciono i mascheroni e adesso dovrebbe essere uscito anche di cotta quindi voglio provarlo ha fatto un video anche qui e faccio sentire i suoni e faccio sentire i suoni più o meno dopo mi controllo e già ho fatto un video anche Clio sul scusate se continui a guardarmi però è il mio specchio ora come ora e quello era sponsorizzato però ho letto tantissimi commenti cioè non perchè fosse sponsorizzato quindi falso però e alcune cose si vedeva che non erano proprio fantastiche però mi ha fatto vedere lo stesso quindi però ho letto tanti tanti commenti su su sotto il video dicendo che era un fumotinta fantastico quindi lo voglio lo farai provare mi attira molto anche perchè questo BB cream come vedete è un po' lucida sul mio viso infatti per vostra grande contentezza secondo me ho la cipra in perle e non so cosa fa la cipra ragazzi allora prima vado a tamponare con la spugnetta l'eccesso magari riesco a capormela così come vedete io l'ho distribuito con le mani ma io ho sempre fatto così proprio vado sempre con la spugnetta ci metto troppo tempo e ho fatto sul pennello ma troppo mi lascio un po' dei segni e poi ci mangio un sacco di prodotto cosa che proprio c'è è una postiglie perchè devo lavarlo ogni giorno praticamente è sempre sporco quindi per me riesco a fare così ok e quindi niente di dimmi se anche voi avete provato quel fondo di niente come vi sembra io ho sempre pure anche di non trovare il più colorito di pelle perchè io ho un sottotono neutro e sembra che non sia legato di strisciuto da nessuno e tipo o sei o sei giallo non ce n'è mai uno con sottotono neutro quindi alcune a me sembra un pochino in difficoltà comunque e passiamo al correttore quindi come sicuramente mi sto trovando anche bene alcuni mi hanno dato che non si trovano tanto bene mi sta piacendo poi non sono esperta quindi in realtà e più che altro è un pochino illuminante quindi dovrei usarlo praticamente sotto gli occhi non so il resto del viso però lo fuso anche sul resto del viso e fondamentalmente me ne prego ho un po' la pelle disastrata in questo momento ok, provociamo agli occhi che stanno a seccarsi un po' subito e io praticamente faccio un po' un miso di quello che vedo fare ma se dovessi andarle a coprire del tutto le mie occhiaie diventerebbe tipo un mascherone perchè io ho delle occhiaie anche più che altro cave quindi si vede proprio la cioè il non so come dire il fatto che sono più sotto rispetto al mio viso quindi ho proprio la bocca ecco quindi è praticamente impossibile coprire del tutto e in ogni caso io ho imparato un modo da accettare il mio aspetto e ho accettato il fatto che le occhiaie sono un po' parte di me e e mi piacciono anche in un certo senso cioè così coperte un pochino cioè che sembrano zombie e non mi dispiattono sinceramente fanno parte un po' di come sono di come sembro del mio aspetto dei miei connotati come le mie sovracciglia io facevo tantissimi commenti sulle mie sovracciglie che sono una più sottile un'altra più spessa una più alta una più bassa quello che sono a me... a me piacciono così e e anzi ma c'è il sovracciglio perfetto a non fare una calda né freddo infatti non me ne vedrete neanche truccare in questo video io ce li ho a volte cosini mio e mi piacciono così non ho particolarmi problemi con i miei sovracciglie quindi non vedo perché ce li dovrebbero avere gli altri ma non vedo perché comunque dovrebbero influenzare il fatto che gli altri verrebbero proprio io con i miei sovraccigli e ok e tipo base un po' fatta adesso metto tre tocchetti di cipria e mentre le cabane mi dicono che sono penso le oddio non vorrei dire mezzogiorno forse le unici e mezza ho messo mezzogiorno e so che questo è il pennello meno adatto del mondo per la cipria però è l'unico pulito che ho qui in mezzo tutte le altre sono sporche di blush o cosa tanto di cipria e ho messo le due e ho messo le due poca 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 il piciorno non ho metto mai la cipria mai 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 un po' adesso pure a cazzo proprio ok perché altro volevo mettere un po' qui perché dopo mi si appiccica troppo le blush mi piace quanto sia ok mi sono passate 23 minuti e ho ancora fatto mezza cosa beh ora mi metto il blush e io come blush uso vabbè come pennello uso questo ma dipende a volte ne uso altri e io sono una persona che ha panda core blush e non usa mai la terra sono quel tipo di persona lì e io il blush adesso mi son visata con questo qui che non so perché trovo stia meglio con questi capelli che ho adesso e è della Lottilondon blush crush numero però eh no ragazzi questo 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 blush si chiama zack zack ok allora controlliamo un po' il mio viso da vicino ehm andiamo al blush zack 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 mi diverte questa cosa ok io ho sì un po' sagerare con il blush però poi voglio che mi duri tutto il giorno, quindi sorrido ho lo specchiato qui e come vedete è il bozzo che ho fatto perché ho tipo una macchia è appunto il problema che mi viene quando mi metto il fondotinta ok, dopo si appiccica tutto il blush per questo mi va mettere un po' di cifra qui va bene, sembra un po' un clown dopo vado a toglierlo poi su vabbè, e io tendo sempre un po' di andare anche qui non so perché non mi piace, non troppo so che tipo da qui in poi non fa messo si, prova io di solito la mattina mi trucco molto di fretta quindi poi ci bevo tantissimo bene ho due pugni in faccia, un posto di blush chiaramente ma non facciamo vinta di niente me lo andrò a correggere su poi adesso un po' si toglie comunque di solito non uso questo di solito uso questo pennello che non sarebbe per i blush però è più morbido quindi riesco un po' a sfumarlo come? io vedremo se riesco a toglierlo un po' se no comunque me ne faccio una ragione tanto che sono fortunata che nei video ho un po' di colo incorretti bravo e ci saltiamo un po' fuori che bozzo bene adesso cambio memoria che questa è piena e ci rivediamo tipo adesso lo son messa proprio bene complimenti ok oggi mi vedete proprio al meglio wow ok allora passiamo agli occhi agli occhi di solito faccio veramente veramente poco e ultimamente metto un pochino di terra qui quando ho tempo tipo oggi si e e per mettermi lo specchio e per mettermi lo specchio madonna come me lo son messo male ragazzi solito non me lo metto così e metto un pochino di terra qui qui dopo lo sfumo e questo per dare letteralmente profondità all'occhio e per usare la terra che sono un pochino ok ok vado all'altra parte ok vado all'altra parte questo palese mi entra in un tutorial voglio che sia chiaro però insomma vorrei migliorare ora vado un minimo trucco però per ora ho altre brevita andiamo a sfumare l'ho sentita? ok ok e poi a volte non lo sfumo veramente bene tra parentesi qui non so perché ma sono secchissima proprio secca non capisco perché mi sta sottolineando tipo il fondo niente il punto è che anche truccarsi dentro una postazione così non è proprio la cosa più comoda del mondo quindi anche lì un po' capitemi e poi a volte mi è preso mi è presa la voglia di mettere anche un pochino di blush sugli occhi proprio sfumandolo con la terra quindi lo metto tipo qui un po' più all'interno perché è leggermente scuro quindi siccome è distante bene si mischia bene i colori e so che questo non è il pennello adatto per mettere questi ombretti qui però non sono ombretti però non ho molto pennelli adesso cioè qui giù quindi anche lì ragazzi ho usato qui troppo un po' più decentemente di così però qui giù sono un po' scomoda non ho niente non ho postazioni ho pochi pennelli non so non so cosa abbia qui tutto sulla barbe ora vado ad usare sempre della mia barrettina amatissima di Ashley Teasdale ciao vi vedete vado ad usare questo colore qui che ama la follia e io vado col dietro ragazzi bello io lo amo io amo questa palette me l'ho sempre detto e sempre lo dirò la ricomprerei all'infinito tra francesi solo che colori esterno da dio tipo la terra il blush questo trovo stiamo veramente bene vedetemi voi gli applico col dito perchè perchè si applica molto meglio dopo mi lavrò le mani ok questo comunque tutti questi passaggi sono un optional per quando ho tempo quindi quasi mai se no il mio trucco normale sarebbe senza BB cream con un pochino di blush correttore e poi matita mascara come vi ho già fatto vedere io la matita di solito la metto sto facendo un po' pochi suoni in questo video e che ho paura di nostalgico il tempo la matita la metto di solito qui tipo sotto e un pochino sopra ma poco 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 adesso stoppo il video perchè questa parte faccio fatica a farvela vedere comunque qui sotto appunto e leggermente sopra vi faccio sentire un po' il suono della matita come vedete l'ho messa anche un pochino sotto perchè ultimamente mi piace truccarmi così e ok e questa è la matita della bijou per il look mi ci trovo molto bene e costa poco qui di adobe e poi mi metto il mascara io Fiorella del canale è la mia maggiore influencer per quanto riguarda il mascara e il cinescope lo sto adorando da quando me l'ho fatto vedere cioè da quando me l'ho fatto vedere nel video della sephora il cinescope zig zag 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 ok allora è sempre una sfida per me non macchiarmi gli occhi mentre mi metto il mascara ve lo faccio da scema vabbè è coperta meglio e non costa una follia quindi perfetto a questo punto non metto le terra e niente e aspetto di mettermi la tinta labbra perché lascio ancora un pochino che le mie labbra si 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 idrotino mi pettino un pochino i capelli e dopo ho metto la tinta labbra so che questo video è stato un pochino gianchiere però mi è andato anche se in realtà sono gianchiere un po' sterile quindi se non facessi in tempo metterla perché non ho più memoria nella nella memory card userò la tinta labbra di jeffree star quella celebrity skin che è il nude tipo perfetto per me perché è quasi uguale le mie labbra quasi ovviamente ok mettiamoci un pochino i capelli domani domani me li devo lavare se non mi ritoccherei mai con le mani così legge di trucco come prima 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 Grazie a tutti I capelli decorati Si andano sempre più facilmente Perché anche tenuti bene Sono più sottili Quindi è ovvio che Se andano troppo facilmente Se andano di no O me li metto un po' meglio Comunque Questa è la sostanza La riga devo Leggermente Più in là Più in là Non mi piace Tenere i capelli tutti e due Ok Facciamoci la tinta labbra Prendo lo specchio L'ultima volta E come vedete appunto è molto molto simile a mia cosa da capra E come vedete appunto è molto simile a mia cosa da capra ok? ecco qui ora è giunto il momento di abbassare le luci e augurarvi una buona notte con un po' di tapping anche se non riuscirete a averla tanto perché ho abbassato le luci vi mando un bacione la buona notte, grazie di essere stati qui con me tutto questo tempo vi adoro, vi voglio bene siete importantissimi per me e spero sempre di proporre contenuti che vi possano piacere un bacione buonanotte che l'espera buonanotte Grazie.